ciao allora altra promozione una linea che io straconsiglio adoro lo so che io le adoro tutte però questa in modo particolare ne parlo sempre tantissimo ed è la nostra linea freezer i nostri contenitori pinguino questo set comprende cinque pezzi ma non è quello che c'è sul catalogo allora in questo set trovate i miei contenitori sono tutti pieni quindi se li vedete bagnati ok perché li ho tolti dal freezer per farveli vedere allora ne trovate due da 450 ml uno da un litro e 100 uno da un litro che è questo e poi uno che in catalogo non c'è ed è quello da due litri e mezzo che non ha il sigillo verde ma giallo io siccome ne ho tantissimi ogni tanto mischio anche i colori questo è veramente comodo io ho messo dentro lo suo con le cozze e è veramente comodissimo è la classica vaschetta del gelato però ci potete mettere qualsiasi cosa sapete quanto è importante congelare gli alimenti nel modo corretto i nostri contenitori sono flessibili proprio perché vanno ad adattarsi a quello che è l'aumento di volume dell'alimento durante il congelamento ve lo ho spiegati un miliardo di volte ma è proprio importantissimo per salvaguardare le caratteristiche organolettiche di tutti gli alimenti che andiamo a congelare perché possiamo congelare veramente qualsiasi cosa dalla carne al pesce alla frutta alla verdura alimenti giacotti magari qualcuno non ha molto tempo di cucinare quindi fa grandi quantità e le conserva poi in monoporzioni e queste sono veramente fantastiche io ci congelo anche le erbe il basilico la salvia la cipolla tritata la carota tritata il sedano potete congelare tutto i nostri contenitori si possono lavare in lavastoviglie mi raccomando se congelate degli alimenti tipo il sugo che sia freddo perché essendo un materiale poroso potrebbe assorbire il colore come vedete si possono anche impilare uno sull'altro grazie a questa scanalatura fatta apposta sul nostro sigillo e stessa cosa quelli più grandi potete impilarli tranquillamente ecco qua il nostro set completo così lo vedete tutto il nostro set pinguino è in promozione fino al 6 febbraio 39 euro e 90 c'è tutto segnato perché sono troppe cose se non me le ricordo clienti privilegiati 10 per cento in meno questo qui è veramente il set che io straconsiglio a chiunque perché una volta che li provate non li mollate più ciao grazie 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 grazie